ciao a tutti ragazzi lei è sofi e lei è victory e benvenuti in questo nuovissimo video oggi faremo un'altra slime challenge allora cominciamo si allora però ragazzi noi dovremmo fare carta forbice o pietra però stavolta facciamo pari o dispari ok allora quindi pari o dispari dovremmo fare e poi dovremmo fare e dovremmo scegliere occhi chiusi attorno un ingrediente che poi metteremo nella ciotola vabbè vabbè stiamo in via alla sfida su vai nanna io sono pari e io sono dispari via vai nanna allora qui abbiamo le temperi e poi abbiamo che non ce le mettete tante sono arruminate qua i due lentini qua la sabbietta carbonato e poi le spatole per fare la slaggia per mescolare per tagliare il pollo a qualcuno no 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 dai mescola tutti gli ingredienti mescola tutto ma i colori e tutto no devi scambolare la bottiglia grossa si vede si sente vai un po un po più vicina un po più ha detto bella potessi l'avevo levata no non la devi no te la devi scegliere dopo ok nanna ora tocca a te ma tocca a me è facile perché quello più alto è quello che vuole no 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 ne devo mescolare no no vabbè eccola lì che ha questo odore vado? no vado? no vado? no vado? no io chiedo cosa ce la mescoliamo? minestrone grossa aspetta vai vuoi andare il bicarbonato vai il bicarbonato vai già qualcosa io bicarbonato eh lo metto io vai basta anche troppo ok su ora tocca a te aspetta no nanna devi scazzare la colla eh fermi come va ah quella la lego no no lì per lentire eh che lego sei giusto eh così può qua ah sì per se no lo slingine è qualcosa vai ti lego il bicarbonato a te eh eh sì la devo riprendere la colla aspetta, ti risposto un po' più in casa hai presa? no vai cerco qualcosa di altro brava la colla la metto io se no te se no senza vellerin faccio mia nulla basta 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 ora si leva la colla ma lasciata riparti perchè ho visto la dove inizia si, si leva la colla ma cosa devo levante? tu sei scelesso lì un po' perlentino vai lo so c'è anche il colore sopra vabbè allora arrivo a prendere la sabbia rosa come la prende o le dita con la cucchiaino? come la prende o le dita con la cucchiaino? non è che non è che non ho capito non hai solo due ingredienti mi ci manca mai lori bisogna ci metterlo non ha anche se ho preso la sabbia posso prendere anche glitter ricordatelo ricordatelo vado? no dai puoi andare ma questo ma questo ma io non ce l'ho eh ne dobbiamo mettere poco troppo perchè poco? perchè poco? forse ce l'ho messo troppo questo i capelli non li metti per india allora adesso tocca me vai è finito non so che colore verrà eh che colore verrà? colore verdina vabbè io ce l'ho fatto un dolore perchè se la meri ci mettono anche il colore vabbè a dopo ciao ragazzi allora no allora adesso io posso prendere un po' di vista a fare vittima? no adesso io ti devo mescolare vai non c'è mescolare ma io si mescolo no no aspetta adesso io ti devo mescolare questo vai a me 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 ok vai stavolta il volo basso perchè se no si metto qui dentro a parte i venti sono due è uguale a questo? non c'è non c'è nulla niente non ho prendito sempre il favore e poi schizzate anche lì vabbè sai come devi fare? devi tappare poi ci vuole qualcosa per te no aspetta sennò ci metti questo vai nonno ci metto questo nonno vai ci ho messo questo si si va via no no ora ci sei no ma perchè mi sono asciugata lì ok allora quindi possiamo proseguire no aspetta ora io devo prendere qualcosa ma dopo quando sei un po' inovviato no no vai mescola mettiti via la sabbia mettiti via la sabbia chiedetica dai voglio prendere i cutter dai dai le conosci no è uguale le conosci non importa fanno gli occhi chiusi uccidenti leggi edate finisci tutto poi basta ce ne metto un pochino no no cosa ci metto se no guardate o dì l'ha mescolato no no mescoli o no aspetta mescoli o no ha detto no no che è tutta la sabbia che è tutta la sabbia cinetica vado si vai brava la sabbia cinetica come me non tanta eh ok allora nonna ci manca l'ultimo ingrediente vai devo mescolare ma c'è qui c'è qua ti manca l'ultimo ingrediente va bene o si no non ti deve andare bene oh santo Gesù nonna o nonna chiudi gli occhi ma perchè tro che io devo chiudere gli occhi finno eh eh no perchè io ho già messo le mie mi sembra la minacina questa sera vai vado qui brava questa metticela tutta no basta e ora cominciamo eh su via 3,2,1 io però aspetta ci voglio rimettere un po' di questo perché c'è un mescolamento non è il colore oi blu no no adesso non abbiamo un colore che a me dispiace è quasi il mio colore preferito è un po' scurezza che scurezza non è il colore come si chiama questo colore è il mio ma il mio fa schifo blu pavone ma il mio fa schifo ci hai voluto mettere tutti i brillanti pensando di far bene ci posso mettere un po' di giallotto va bene allora adesso ma io ci metti te ho capito allora signorina dei comodi non aspetta allora perché non facciamo che ci no aspetta perché non facciamo che ci mettiamo c'è che ci mettiamo altri ingredienti ma un po' allungato no vabbè dai su nanna chiudi gli occhi allora devo chiudere gli occhi vai mescolare ma cosa non è che ci metto gli occhi ci metto un po' di questo qui no nanna è troppo duro nanna ora devi mescolare non mescolo anche le bottiglie nanna devi mescolare no questi hanno la questo questo e questo ma questo è stappato anche bello stappato no chiudi gli occhi vai cioè io devo chiudere gli occhi mescolare vai mescolare sto mescolando calma eh mi sono andata per fare lavoro con il sapere vai ma schiava il rosso vai ti sei tinta di giallo il dito yeee io ci voglio metto un po' di giallo no no non puoi ce lo metterai dopo ce lo metto subito no no metto un trucco guarda ora te lo dico nel naso questo il cammino un po' di giallo guarda il dito ok un po' di giallo via questa schifezza vedi questo castone mi sembra davvero sullo suono vai perché prego rendi questo slime adesso ci metto un po' di roba dai un po' di questo qui eh color borgogna color borgogna è brutta è brutta è brutta ma ho vinto io davvero mi stai scelicendo no no non è questo che schifezza io come fa piacere questa roba non lo so provo a mettere un gioco al tuo chissà come viene bene no ora prima faccio il mio che non viene perché mi è arrivato il pasto ma guarda non c'è inzuppi non si capisce ma perché non ce ne sei legati bene no no miscolo un po' io che schizzi no no mi schizzi sono il bicarbonato e si un po' non è un po' bellissimo ci vuole un altro po' di bicarbonato perché è troppo liquido è da zucchero a velo eeeh una coniglia sì ma se non le cappe questi assicurimenti durano un po' eeeh perchè c'è troppo sembra comiticio nel muro in ervate no buffato in ervate per fare la zuppa lo so che è troppo sposta la tazza che si rovesca ci va messa un po' di sì ci ho ammesso che schiro io con due ingredienti ci ho fatto un impasto lì che ci mangiano dieci mucche tutte le parolacce devi dire parolacce? mangiano dieci mucche? è una parolaccia? sì non ho capito non ho capito ancora non non ho senso delle parolacce ok il mio si è formato il mio si è formato vada la eh grazie vado insieme no diventa troppo dura fa come il mio si no il tuo è cuosissimo oh guarda la il colore è bellino non ne ha usato che è venuto bene il colore con tre ingredienti se ne avessi 27 va mi riesco a leggere vada 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 giovanna è la tua plana vada senza nemmigare le mie murate basta te l'ho fatta troppo però volevo fare un color bordeaux no, bordeaux è la maglia del divorno non è è la maglia del divorno non è proprio bordeaux è maranto è uguale se questa la mangi a cena non dici la posta no invece sarebbe bella ma che schifo è meglio te lo vedi fai con le mani che bellezza fai lo mescoli al mio e sa che colore si, al bordeaux digerisci per una settimana sempre per digerire non aspetta puoi chiudere il video per favore ne ho samparato spero ragazzi allora noi speriamo che questo video vi sia piaciuto se è piaciuto parecchio mettete like se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale ciao a domani nonna spingi il video perché ciao canale aspetta devo asciugare qui scusate ragazzuoli aspetta